Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi proseguiamo gli unboxing e le recensioni dei personaggi Vibis che escono in tutti gli Eurospin, oggi andiamo alla scoperta di Mr. Bars o Montgomery Bars se preferite, perdonate la mia pronuncia. Allora prima di vederci il packaging e la figure facciamo partire la sigla che è degli Almal, mi raccomando ragazzi seguiteli, trovate tutti i loro link in the box e a rientro ci gustiamo questa nuova figure. Pronti a spiccare il volo come un'aquila? Voliamo! Ed eccoci qui di entrati ragazzi e adesso andiamo alla scoperta di Montgomery Bars, il dadore di lavoro di Homer Simpson. Allora il packaging è tutto rosso, qui vediamo il logo dei Simpson, qui vediamo una foto intera del personaggio che si trova all'interno della busta, la scritta Vibis che è il nome che hanno dato a queste figure di questa collezione, il logo Eurospin, la dicitura che ci informa che all'interno c'è un personaggio 3D con movimento. Qui dietro c'è la checklist parziale della collezione perché sono riportate solo le figure che è possibile ottenere con una spesa minima di 35€ e non ci sono quelle che si possono comprare a parte proprio come Mr. Bars e le altre 6 figure. Qui vediamo tutte le licenze, le avvertenze e via discorrendo. Dai, apriamo la busta e scopriamo la figura. Io la busta cerco di aprirla nella maniera più delicata possibile perché da collezionista a professionista quale sono le terrò. Allora, questo è il primo vero babo led di questa collezione ragazzi e credo che questo è un babo led perché è l'unico movimento che fa. Allora, per chi si fosse perso gli altri due video, intanto li faccio scorrere qua sopra così potete recuperarli. Chiariamo questa cosa che ho appena detto dei babo led. Allora, questi sono personaggi 3D con movimento. Tutte le altre figure che abbiamo visto fino adesso avevano un pulsante, o dietro la schiena o dietro la testa, che quando lo spingevi azionava appunto il meccanismo. Nel caso di Milauss era il braccio, si muoveva il braccio. No, nel caso di Milauss erano le sopracciglia, si muovevano le sopracciglia. Nel caso di Ned Flanders invece si muoveva il braccio. Questa figura qui non ha pulsanti. Come le altre figure è fatta sullo stile babo led, cioè testa grande e corpo piccolo. Però mentre le altre due avevano la testa fissa che non si muoveva, questa figure qui, cioè questa di Bars, ha proprio la classica testa del babo led che si muove. Quindi tutte le figure di questa collezione, tutti i Vibis, sono fatti con lo stesso stampo dei babo led, cioè testa grande e corpo piccolo. Ma tutte le figure che abbiamo visto fino adesso, cioè Flanders e Milauss, avevano la testa fissa, che non è una cosa tipica dei babo led, perché il vero babo led è questo, è quello che si muove la testa. Però il loro movimento consisteva appunto in un movimento meccanico azionato tramite un pulsante. Questo non ha pulsanti e il movimento che fa, il movimento che ci dice qui la busta che fa, è appunto la testa che si muove. Quindi questo è un babo led al 100%, gli altri lo sono solo al 99%. Questo invece è un vero e proprio babo led. E anche questo, come gli altri personaggi, è fatto veramente molto molto bene, è assemblato in più pezzi. Qui molto probabilmente hanno fatto il corpo e la testa, quindi in due pezzi. Forse i capelli? Sì, anche i capelli hanno assemblato, quindi in tre pezzi è stato fatto e poi unito. Il movimento che fa appunto è questo, il painting è stato fatto bene, il personaggio è tale e quale a quello che si vede nella serie animata. Ovviamente cambiano le proporzioni, però il personaggio è quello. Qui vediamo la scritta Simpson, The Simpsons, anzi per essere precisi, la basetta è verde, qui tutte le licenze, il marchio CE, painting fatto bene, scultura fatta bene, stampo fatto bene. Anche questo è veramente un bel personaggio. E allora ragazzi, se non volete perdervi tutti gli altri video dei Vibits, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Così facendo non vi perderete anche tutti gli altri contenuti del canale, che riguardano le sorpresine, Kinder, del passato e del presente, San Carlo, Greek Rock, Dolci Preziosi e via discorrendo. Non vi perderete tutte le collezioni che escono in edicola, statue, calze e figurine. Non vi perderete tutti i video sull'action figure, del presente e del passato, sui videogiochi, per smartphone, pc, switch, playstation, xbox. Non vi perderete tutti i video dedicati agli anime, alle serie tv, ai film, ai manga, ai libri, ai fumetti, al wrestling e non vi perderete tutti gli altri contenuti del canale. Il canale è pieno zeppo di playlist, pieno zeppo, c'è anche la playlist della storia dei cartoni animati, dove vi racconto appunto la storia dei cartoni animati. Siamo partiti con quelli di Cartoon Network di fine anni 90, inizio anni 2000, tipo Leone il cane fifone, per intenderci, è Dead and Eddie e proseguiremo anche con tutti gli altri. Ci sono tante altre playlist, quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Lasciate un bel mi piace a questo video, commentate questo video, condividete questo video, fatemi sapere nei commenti se vi piace questa figure, se vi piace questa collezione, se la state facendo. In the box troverete tutti i link alle pagine Facebook, Instagram e TikTok, seguitemi anche lì. Sempre in the box c'è il link al blog se volete fateci un salto e noi, come al solito, ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli! Ciao! Ciao! Grazie a tutti